TRETILE TRETILE nasce dall'esigenza dell'industria tessile di trovare una soluzione innovativa per rendere il processo di stampa digitale ecosostenibile. Il progetto intende sviluppare un processo biologico basato sulle capacità depurative di tre tipologie di microorganismi, anamox, funghi e microalghe, per un trattamento efficace ed economico dei reflui e contemporaneamente di produrre molecole con alto valore aggiunto da rintrodurre nella catena di produzione o da vendere per altre applicazioni bioindustriali.